Ragazzi cos'è successo? Cos'è? Oddio avete sentito ragazzi cos'è questa cosa? Ragazzi questa foresta è maledetta e noi dobbiamo fotografare tutte le cose che non sono normali Guardate qui ad esempio questa cosa qui Oddio cos'ho fatto? Ho rotto qualcosa? Allora adesso attivo la fotocamera e facendo C ho fatto la foto E guardate qui ora ho la mappa Così abbiamo le prove di ciò che andiamo a scattare Ovviamente scattiamo anche tutte le altre cose che troviamo Ad esempio in questo caso c'è Solar Vedete? Oddio guardate qui ragazzi si vede addirittura il sorriso in questa foto Anche perché non è che si veda proprio benissimo ogni volta Solar Si vede solo in certe situazioni particolari Oh 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 che cosa c'è lì? C'è tutta un bioma di pietra praticamente vedo Non si riesce nemmeno a zoomare perché purtroppo Eeeh ragazzi non ho messo l'Optifine Quella cosa che ti fa zoomare Comunque adesso iniziamo a trovare un po' di pietra le prime cose E cerchiamo di stare attenti intorno Ricordiamoci che dobbiamo farci le foto eh Ecco ad esempio queste cose non ci sono su Minecraft normalmente a quanto mi ricordo E quindi anche questa potrebbe essere un'altra prova E quindi dobbiamo stare, aprire bene gli occhi E stare attentissimi qui in giro Mmm Non mi convince questo posto proprio perché questa foresta dovrebbe essere maledetta Qua in giro ci dovrebbero essere degli alberi ghignanti Cioè che fanno dei risi, dei sorrisi Molto inquietanti, se li vedete fatemeli sapere ovviamente Cioè scrivetemeli nei commenti Se riuscite a vederli Però prima direi di andare a prendere un po' di pietra qui in giro Proprio perché così riusciremo a prendere delle cose utili E a iniziare a fare i primi attezzi che ci servono Ok allora praticamente io ho scavato tutto qui in quanto qui sotto Ho preso un po' di pietra E la fotocamera l'ho messa qua Ricordiamoci che è nel quarto slot dell'inventario Così almeno possiamo prenderla appena troviamo qualcosa di nuovo Io avevo sentito qualcosa da questa parte Ragazzi ho paura, mi sto spaventando Sentite questi sorrisini che faccio Queste ridarelle piccolissime Queste le faccio quando ho paura Eh ma purtroppo sono un pochino spaventato in questo momento Perché purtroppo queste versioni di Minecraft Fanno sempre un sacco di paura Però ci piace la paura Porco du Eccoci ragazzi vedete questa cosa però non va bene Che mi spavento così tanto Allora Devo cercare di restare calmo Anche perché qua se no Poi si arrabbiano tutti quanti i vicini Giustamente E quindi non posso urlare Quindi adesso andiamo qui E ragazzi io sono uno che urla molto facilmente Anche perché lì io vi giuro ho visto qualcosa Ma era un albero probabilmente E appunto spero che non sia un albero che ride Che ghigna Cioè che fa un ghigno inquietante Oh del carbone Andiamo a prendere immediatamente il carbone Perché ci serve Allora stiamo attenti sempre A tutte le cose che vediamo Oddio ragazzi Poi ci serve anche il cibo Perché qua noi non abbiamo assolutamente niente In questo momento Ci sono dei salmoni lì sotto Adesso andiamo a prenderli Però sarebbe sicuramente l'ideale Andare a prendere Tutto il cibo Che ci serve Peraltro mi dovrei anche fare un nuovo piccone Quindi adesso direi di Metterci qua la crafting E farci proprio questo picconazzo Bello bellazzo E fare Prendere un po' di carbone Stiamo attenti In giro Qua dietro di noi Mentre scaviamo Anche guardiamoci Perché guardate Raga qua è pericolosissimo Ok Non posso non prendere Tutto il carbone Che c'è Anche perché siamo all'inizio Il carbone ci serve sempre Tantissimo All'inizio di Minecraft Del gioco Proprio per fare tutte le cose Ad esempio Per fare il cibo E poi per fare le torce Che a noi ci servono tantissimo Le torce Se no non ci vediamo Assolutamente niente Entriamo qua sotto E prendiamo questi salmoncioni Belli belloni No 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 Aiuto Ok perfetto Questo è proprio un salmone Quello che si mangia il sushi Vabbè Molto buono Voi lo mangiate il sushi Comunque concentriamoci Sulle cose paranormali adesso Però perché Sennò qua parliamo di salmoni E non parliamo di Cose paurose Ok allora Quel coso lì Non mi sembra pauroso Ricordiamoci che purtroppo Qua Solar È sempre qua che ci spia Purtroppo Ormai È diventato un compagno Delle nostre avventure Purtroppo E non so che dirvi ragazzi Cioè Solar È proprio Non so Una parte Delle nostre avventure Insomma Mi fa piacere come cosa Perché Boh Cioè è bello avere Qualcuno che ci accompagna Così tanto Anche se è un personaggio E' un personaggio cattivo Però è comunque Qualcosa di nostro Non so se capite cosa diciamo Qualcosa che Abbiamo solo noi qui Solar Cioè solo noi ce l'abbiamo Non so se l'avete mai visto Da altri youtuber Però Sono contento che vi piaccia Anche perché È un personaggio che È veramente inquietante Cioè guardatelo qui Comunque Mucca Tu devi morire Cioè Senza offesa Mucchettina Però veramente brutta Cioè Brutto io Perché ti mangio Però Comunque Vabbè Che cosa c'è lì Dei pesci che stanno fermi Ecco questa potrebbe Non essere una cosa normale Vedete possiamo anche Zoomare così Ah cacchiarola Ok no Quei pesci là Si stanno Stanno fermi Questi qua si stanno muovendo Perché Vedete questi qua Sono un po' maledetti Questi qua no Mmm No sto facendo troppe foto però Adesso mi riempio Tipo l'inventario Di mappe di foto Di paranormali Poi dopo Voglio vedermi Che cosa metto Nell'inventario dopo Non posso più mettere niente Vabbè Questo è il bioma Della montagna Quello dove c'è Tutta la neve Inquietantissima Ah ovviamente raga Io Scontatissimo Ve lo dico Cioè Il ferro Lo dobbiamo prendere Per forza Capito Se no Cacchio Cioè Per forza Dobbiamo prendere il ferro Raga Se no Cioè Assurdo No Cioè ci serve il ferro Anche perché È l'inizio Praticamente Del gioco Ci servirà per fare Il piccone Per prendere magari Dei diamanti E proprio per Magari andare nel nether Chissà che cacchio C'è nel nether Ragazzi Questa è proprio Una domanda Che ho in testa Alla quale però Per ora non posso Dar risposta Perché devo Prendere da mangiare Cioè questo pollo Mi spiace Pollettino Ok Bene Cos'è stato? Cosa ti vuole stato? Io non credo di averlo sentito proprio bene Però forse c'è stato qualcosa Ma non vi sembra tutto troppo fermo? Mmm Questa cosa non è normale ragazzi È tutto Guardate qua Sembra tutto morto Tutto spento Non succede niente What? È tipo la calma prima della tempesta Non so come dire E sta per succedere qualcosa Secondo me C'ho questa paura Dentro di me Che proprio sale Ecco qua Eh no 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 Vedete questo buio? Questo buio qua È indice Di fenomeni paranormali nel mondo Aspettate aspettate Che qua c'è lo scheletro Che mannaggia No 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 Non nasconderti nel No cacchio 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 No Ok perfetto Bene Sto morendo Perfetto Un paio di ciufoli Però va bene Allora entriamo qua dentro senza morire Ora così C'ho così Metto la craft No che è Orco 2 Oh che spavento Era solo una freccia Niente di preoccupante Allora facciamo così Ok Allora Adesso stiamo in pericolo Anche perché non ci sono solo I mob normali Che devono ucciderci Però ci Magari ci sono anche Quegli altri cattivi Che nuovi Ecco e vi stavo dicendo Praticamente questa cosa Questo buio qui Non è normale Infatti dovrei andare a farmi Delle torce E quindi magari Faccio così Ho tantissime torce E dove è il carbone? E l'ho messo qua E ditemi che non sono un po' Un imbecillotto Che l'ho messo qua Olle Bene Adesso Facciamo così E poi prendiamo le nostre torcione Ok Allora stiamo attentissimi E Mmm Cos'è? Cos'è questa cosa ragazzi? Avete C'era qualcosa di rosso? Mi sbaglio Oh Ok Forse è solo un ragno È probabile sia solo un ragno Però non rischierei Sì 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 È un ragno Ok Dio che spavento ragazzi Ogni volta che mi spavento Tantissimo Ecco però vedete questo buio Non è normale O no 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 Ragazzi Cacchio Come è entrato sto creeper? Da dove è entrato? Non c'era prima Io stavo camminando in questo corridoio Ma non c'era prima Aspettate aspettate Chiudiamoci qua dentro Anche perché È arrivata notte Eh cacchio Eh se no Cosa facciamo qua? Ci prendono tutti i mob E ci fanno fuori Però ragazzi qua mi sa che possono Tipo entrare nella neve I mob Quindi salire da sopra Praticamente Immagino Però insomma magari no Ok sapete di cosa avremmo Effettivamente bisogno Eh avremmo bisogno di un letto In questo momento ragazzi Anche perché qua purtroppo Non non si dorme Vedete Lunar Non c'è per ora Quindi è così È positivo in teoria Forse perché c'è un Albero maledetto Che sta Volendo ucciderci Ok Può essere benissimo Però insomma Ognuno Fa le sue cose Magari chissà Questi alberi Fanno sorgere tipo Gli aspetti demoniaci Che ci sono in questi mondi No Ok io direi sempre Di stare all'interno Delle foreste Ragazzi miei Perché qui all'interno Delle foreste E sono qui Che si trovano gli alberi Ovviamente No Quindi dobbiamo stare Proprio qui dentro Perché stiamo cercando appunto Questi alberi maledetti O comunque Qualcosa che faccia Che ci faccia Sentire la presenza Di questi alberi Maledetti Quindi magari che ne so Delle maledizioni O qualcosa del genere Comunque siamo stati Talmente tanto fortunati Ragazzi Abbiamo trovato le pecore Eh sì Eh sì E poi abbiamo trovato Anche i creeper Ma questi Non li volevano trovare Volevano trovare le pecore E quindi adesso Andiamo a farci Immediatamente Ehm Non so Tipo Un letto Ipotizzo Magari Sarebbe utile Un letto Sicuramente Quindi adesso Mettiamoci qua No La crafting table Ok Adesso mi sparo Uno scheletro Volete vedere E poi ci muoio Poi magari mi spawn Aerobrine indietro E muoio di nuovo Ti prego Non farmi spawnare Aerobrine indietro Anche perché potrei Morire di infarto No Non c'è nessuno Bene Ok Adesso dormiamo Perfetto E ho fatto adesso La notte passata Giusto? Sì Bene Ok Abbastanza normale Questa notte Vi devo dire Niente di Troppo preoccupante Non credete anche voi Vabbè Andiamocene via Qua ci sono gli zombie Che sono abbastanza scemotti E li odio Bene Dovo cadere Certo Eccoli qua Ovviamente i creeper Che devono venire A farmi esplodere Eh giustamente Se no Non sono creeper Ovviamente i creeper Esplodono Ragazzi Cos'è successo? Cos'è? Oddio avete sentito Ragazzi cos'è questa cosa? Cos'è? No 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 per favore No per favore No per favore No vi prego Ok Sparito da un po' La cecità Il fatto che non vedevo niente Però Oddio Forse perché è arrivato solar Può essere anche L'influenza di solar Ragazzi Non so se è un qualcosa Della foresta Oppure di solar Però È il seed Della foresta Questo quindi dovrebbe essere Qualcosa di questo tipo In teoria Quindi Potrebbe Certo non mi spiego Perché solar Sia comunque in questo mondo Sarà proprio perché ormai Ha invaso il mio pc Mi ha tipo Contagiato tutte Le schede di minecraft Dove ho installato minecraft Tutte le cose Cioè È assurdo comunque Cioè È veramente incredibile Ragazzi Pensate un attimo Al fatto che comunque Dai Cioè Tutte queste Creature Assurde Che stanno all'interno Dei miei mondi Perché Cioè È assurdo Cioè Veramente Ma che cacchio di avventure Stiamo vivendo Cioè Poi scusate No no Avevamo fatto la foto a solar Stavo per dire Dovevamo fare la foto a solar E invece No Perché l'avevamo fatta Però sapete Com'è sempre meglio Rifare Prima o poi La rifaremo Ma In questo momento Io stavo Cercando di concentrarmi Su qualcosa Che non avevamo visto Anche Cacchio Ragazzi Siamo stati Sono stato un pochino Stupido Perché mi sono scordato Di fare la foto Quando mi stavano Facendo la cecità Non so se sarebbe venuto Tipo ceci Cioè Insomma Come Come vedevo io Oppure sarebbe venuto giusto Non lo so Perché in teoria La macchina fotografica Non sono i miei occhi Quindi avrebbe dovuto Vedere in modo diverso No Abbastanza Normale Credo Cioè Quindi boh Però ecco Sarebbe stato interessante Provarlo Magari Non avrei potuto documentare Il fatto Ragazzi Ehm Io Non credo Che questa cosa Sia normale E no Ehm Non l'abbiamo fatta noi Mi sa Aspetta Zoomiamo anche Perché è importante Ok Ehm Ragazzi miei Che vedevo di E che vedevo di Facciamo la foto Da più angolazioni Perché Eh Ragazzi Ehm E vedete che qua Le cose non stanno bene Perché c'è Una testa Cioè Una zucca Alla fine Che simbole Che simbole Che simboleggerebbe Una testa Su Una fence E proprio Peraltro Mentre Siamo a mezzogiorno Cioè Siamo arrivati qua Proprio quando È mezzogiorno E quindi quando Solar ci spia Dall'alto E non vi sembra Un po' strana Questa cosa E E E Guarda Ragazzi Secondo me Sta per Ucciderci Tipo Proprio Nella vita Reale Non sto scherzando Chiaramente Però Sapete Quando gioco a questi mondi Mi viene un po' di paura Anche Proprio Quando sono Nella vita Reale Perché Boh È tutto così Ti fa sentire Proprio così Dentro Tutto questo Mistero Assurdo Che c'è Cioè ragazzi È veramente Pazzesco È un'avventura Incredibile Cioè E Non capisco Cioè I misteri Poi piacciono Tantissimo Troppo E Scheletro Vai via Non sei il benvenuto Qua Ok Sei il classico Scheletro Ti conosciamo Tutti No ragazzi Aspettate un attimo Ma l'ho visto io C'è stato qualcosa Qui O mi sbaglio No C'è C'è stato qualcosa Qui No Forse Sto impazzendo io No Forse sto impazzendo io Ragazzi Può essere benissimo Ragazzi Guardate per un secondo Ma come Aspettate Guardate Perché è tutto così fermo Pure i pesci Pure gli squid Quella 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 zucca lì E quella di prima Non mi ricordo Non so se è quella di prima Comunque non mi stupirei se ce ne fossero altre E perché è tutto così fermo Guardate Non sta Succedendo in niente Non c'è anima viva Non c'è niente Un animale Un qualcosa I pesci che Stanno fermi Gli alberi che stanno Vabbè Ovviamente gli alberi Cosa devono fare Stanno fermi gli alberi Però certo Comunque è troppo fermo Tutto troppo fermo Non va Cioè Non è normale Non so C'è qualcosa di strano Dove sono le pecore Gli animali Le cose Non lo so Qua Non me la racconta giusta Minecraft ragazzi Non me la sta raccontando giusta Non vi so dire Che cosa sta succedendo Ma qualcosa di strano Sta succedendo sicuramente Vabbè Lo capiamo da Tipo Sti segni qua Da tutte le prove Che avevamo trovato Che poi ricordiamoci un attimo Tutte le prove Perché adesso io non mi sono Anche scordato Vabbè Solar Ok Ma tipo Cosa che avevamo trovato Oppure Vabbè Queste cose per terra Ok Ah I pesci fermi Vedete Il fatto che siano fermi Conferma Cioè Si ripete E poi questa cosa ragazzi Aspettate Che la vediamo un po' più in grande Questa cosa che avevamo trovato All'inizio Ma non c'è su Minecraft O L'hanno aggiunta nelle nuove versioni Che io Non conosco benissimo Ok Potrebbe essere Che l'abbiano aggiunto Nelle nuove versioni Però su questo siete di certo Più esperti voi Ok Ditemi voi Non lo so Oppure qua mi sto Completamente impazzendo E In realtà non sono io Che sto impazzendo Ma allora sta impazzendo Minecraft proprio Che può benissimo essere Ormai ci stiamo mettendo Un sacco di cose dentro C'è Solar C'è Di tutto e di più Ragazzi All'interno di questi mondi Assurdi Si è sentito qualcosa Mi sbaglio Non so se sono io Che sto impazzendo Che sto sentendo cose Allora Cosa succede Quando tu hai paura Questa è una piccola lezione Vabbè Non perché io sia Adatto a fare le lezioni Non so fare niente Io Ok Però Dico Cosa succede Quando Ti spaventi Allora Tu hai paura Quindi stai attento A tutte le piccole cose Che possono succedere E magari Succede anche Che vedi Delle cose Che non ti aspettavi Che magari Quando hai paura Quando non hai paura Non vedi Queste cose Cioè Quando tu hai tanta paura Vedi un sacco di cose Anche che magari Potrebbero non sembrare Troppo paurose Insomma Non lo so Questa è un'ipotesi Così no Cioè Vabbè L'ho letta da qualche parte Tipo Su una patatina Cosa Sul pacchetto delle patatine E ragazzi Io continuo a dire Che è tutto troppo Ma che cacchio Sta succedendo Ma non c'è niente Ragazzi Guardate Ma questo non è Minecraft Ma che cacchio Sta succedendo Ma perché Ma ragazzi Vi sembra normale Questa cosa Perché ci sono Degli alberi Sopra gli alberi No ma Ma allora vedete Forse era questa La cosa strana Che succedeva In questo seed Ma lo vedete Comunque c'è qualcosa Di strano A parte Ma Quella è una piramide Ma quella Non c'è La piramide Nell'acqua Normalmente Su minecraft Quello Adesso ci andiamo A vederlo assolutamente Ma fermi un attimo Io volevo prima vedere Questi alberi Ma che cacchio Mi state da dire Perché un albero Vive sopra un altro albero Come ha fatto a spawnare Un albero Sopra un albero Aspetta Prendiamo i maiali Perché ci servono Per vivere Ok così Perfetto Va bene Così Le pecore Vabbè sentite Noi prendiamo tutto Perché a sto punto Ci serve Proprio perché ci serve Il cibo ragazzi Quindi prendiamo Assolutamente tutto Così le pecore Ok Bene Tutto quanto così Va bene Ho sentito Vabbè Erano i passi Dei maiali In teoria Quindi buono Allora Prendiamo le pecore Ok Di nuovo le pecore Perfetto Adesso andiamo immediatamente A quella Quella cosa lì Che avevamo visto In fondo Esattamente Proprio questa qui Allora Ragazzi Ora questo è il momento Della verità Vediamo se questo mondo È veramente maledetto Se è spawnata Questa cosa Peraltro Facciamo una roba Così Facciamo la foto Vedete ragazzi Questa è una piramide Nell'acqua Aspetta Però Graffiamo giusto Se no qua Le cose non le fotografiamo giuste Allora Oh cacchio Ok dormiamo anche va Che è meglio Allora facciamo Mettiamo la barca qua sopra Così Appena Finiamo Ci buttiamo sotto E Entriamo nell'acqua Dopodiché Prendiamo il nostro lettuccio E dormiamo Sì vabbè Ho capito Respond Point set Però intanto Ragazzi Che cacchio Aspettate Fai la foto Fai la foto Fai la foto Fai la foto Ok Foto fatta Ok aspetta un attimo di nuovo Foto fatta Ok perfetto Ragazzi ma che cacchio Ma solar ogni volta Mi fa prendere gli infartini Ora buttiamo queste cose Che non ci servono Ci servono tutte le prove Ragazzi Tutto lo spazio per le prove Per forza Deve essere così Se no ragazzi Qua che cacchio facciamo Ok Mettiamo No 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 Io qua non va bene Io qua mi spavento Io qua mi spavento troppo Ok bene Allora Adesso Ci svegliamo E andiamo alla piramide Che avevamo visto prima Ok bene E no Prendiamo il letto Perché ci serve sempre il letto Ok Adesso ci mettiamo qua sopra E andiamo sotto Perfetto Allora qua solar sta rispawnando Il che non so se è positivo o negativo Peraltro guardandoci dietro Noi possiamo anche capire Dove c'è aerobrine Perché aerobrine Purtroppo spawna con solar Oppure con gli alberi Adesso io non so che cacchio fa Spawnare aerobrine Ma in teoria Le scorse volte era spawnato Quindi dovrebbe spawnare anche qui In questo mistero Non lo so Comunque adesso vedremo più chiaramente Ragazzi Non potete dirmi Che questa è una cosa normale Documentiamo anche il fatto che È proprio profonda Vedete Ogni prova è veramente utile In questo caso Adesso entriamo qua In questa Vedete Poi peraltro Qua vicino Adesso io farei anche una foto così Per dire Ragazzi Guardate qua Qui c'è il Tempio Vedete È così che si fanno le prove Si documentano Si deve cercare di portare Il più possibile Tutto quanto Tutte le prove Insomma Va bene Allora Scaviamoci qui sotto Se magari riuscissimo a fare una pala Sarebbe l'ideale Ok Buttiamo via questa cosa E prendiamo Non so Craftiamoci una crafting table Che lasceremo qui Perché lo spazio Ormai inizia a scarseggiare Quindi Mi devo craftare immediatamente una pala Così Così E poi così Ok Bene Dopodiché Mi metto così La pala In teoria ce l'abbiamo Adesso Sempre un'occhiatina qui in giro Può essere utile Ragazzi Non lo so Cioè Questo mondo non me la racconto giusta Niente Pure quei pesci sono fermi Non lo so Non è normale Secondo me Boh Cioè Sarò strano io Va bene Ma secondo me non è normale Scaviamoci due per due Così sotto Ecco Tipo questa piramide Ad esempio È l'apoteosi della normalità Cioè nel senso Non è proprio normale Cioè proprio Il simbolo del fatto Che non è normale Perché Cioè ragazzi Sono abbastanza convinto Che non ci sia Non c'entrino le nuove versioni qua Sono convinto Dai Non possono aver aggiunto Una piramide di sabbia Nel mare Nell'oceano Cioè manco loro sono così Stup Cioè vabbè Adesso senza criticarli Perché magari l'hanno fatto davvero Loro Non lo so Però Cioè Non lo so Mi sembra strano Poi il fatto che non ci sia niente È ancora più strano Perché ragazzi Cioè non c'è niente Una piramide a caso Boh Vai a capire ragazzi Io non so Boh Questo è un mondo di certo Molto strano E sicuramente mal detto A sto punto ragazzi Io lo dico Cioè questa cosa è veramente maledetta Perché Tutto fermo Succedono cose Si sentono suoni E era venuta prima La cosa della cecità Vabbè c'è solar Questo classico E questa piramide qua Ci sono tante cose Che non sono normali Comunque abbiamo fatto Tutte le prove Tutte le foto Ce le abbiamo qua Dovremmo farci Una base Ragazzi Magari su un'isola Sarebbe l'ideale Tipo lì Ci faremo una base Dove mettiamo tipo Tutte le prove Tutte le foto Che abbiamo scattato qui All'interno Delle casse Così almeno Ce le abbiamo lì Pronte Salvate lì Così almeno Nessuno ce le ruba Se noi moriamo Almeno rispondiamo Poi all'interno della base Ed è perfetto così Quindi secondo me Sarebbe questa La scena ideale Che dobbiamo Lo scenario ideale Che dovremmo raggiungere Ok Pensavo che fossero Dei pesci che Nuotavano Volavano Ma invece no Per fortuna Ci mancherebbe altro Ok Quindi Direi semplicemente Adesso di andare A metterci Un po' di Crafting table Qui E di fare delle chest Così da poter Mettere all'interno Di Tutto quanto Così Oh ragazzi Che spavento Avevo visto Quella crafting table Mi ero spaventato tantissimo Ok perfetto Adesso Eh no vabbè Bisogna metterle Una per una Va bene Eccoci qua Bene Adesso queste Sono tutte le prove Boh Ragazzi Non so Speriamo che Ci siano altre prove Perché così poi dopo Le presentiamo Tutte quante Ai nostri amici E Insomma Proviamo tutto quanto A livello scientifico Perché stiamo facendo Vedere le prove Quindi è proprio A livello scientifico Quindi Bene così E ci vediamo Al prossimo mistero A sto punto Anzima 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 Anzima